Sì, sono contento anche perché era tanto che mancava e tanto che lo cercavo. Poi insomma, ho un po' altri risultati. Quando facevo gol io si pareggiava sempre. Quindi alla fine mi sono messo con la testa nel giubbotto e non volevo vedere gli ultimi calci d'angoli e punizioni. Però no, siamo contenti. Abbiamo avuto negli ultimi mesi e mezzo una grande crescita. Si è visto sul piano del gioco e siamo contenti. Ora affrontiamo queste due ultime partite prima della sosta. Ecco, tra le note positive oggi non avere preso gol, che è stato sempre un po' il vostro tallone d'Achille. e forse potevate averla sbloccata già nel primo tempo. Sì, abbiamo avuto tante ripartenze nel primo tempo perché mi sono detto che loro quando perdevano palla c'erano tanti spazi e con gli esterni si ripartiva. Siamo stati poco cinici davanti, forse male abbiamo fatto tanto lavoro anche in difensivo. Poi meno male abbiamo sbloccato dopo e in difesa stasera hanno fatto un gran lavoro. Quanto ti trovi bene in questo modulo che esalta le tue doti da esterno offensivo? Vabbè, è il mio ruolo naturale. A differenza dell'anno scorso comunque sono sulla fascia, ho più l'uno contro uno, ho più varietà, posso giocarla indietro, in avanti, appoggiarmi, partire. Quindi è il mio ruolo naturale e mi trovo benissimo. Poi comunque con Nello che è un fantasista e ti mette la palla, Beppe rientra anche lui, Gabri in mezzo all'aria con tutti, anche i centrocampisti, comunque mi trovo davvero bene. Comunale un fortino, manca solo la vittoria esterna che è assente da maggio. Ci avete pensato? No, ci abbiamo pensato, siamo anche delusi, fra virgolette. Comunque anche fuori casa si vede che la squadra gioca, alla fine manca soltanto il risultato. Anche a Pistoia abbiamo fatto la partita, abbiamo preso un tiro in porta, è andata così, però si impara dagli errori. Adesso siamo abbastanza sereni, la classifica inizia già a piacerci. Prendiamo fiducia con le partite in casa, comunque mi sembra che sono sette partite con risultati positivi, quattro in casa e tre fuori e adesso ce la mettiamo tutta perché sono due trasferti difficili. Prendiamo fiducia con le partite in casa.